La rivelazione del primo segreto di Meggiugorie, quindici giorni dopo orribile terremoto nei Balcani. Nel silenzio dei Balcani, tra le vette delle montagne e i boschi secolari, si cela un segreto antico che attende di essere rivelato. Ma prima, la Terra tremerà sotto il peso del destino, annunciando un nuovo capitolo nella storia dell'umanità. La profezia della Santissima Vergine Maria, tramandata agli occhi innocenti dei bambini croati, svela un cammino di luce attraverso le tenebre dell'ignoto. Un terremoto imminente sarà l'eco di un avvertimento divino, annunciando il tempo della misericordia e della rivelazione. Che questo messaggio sia accolto con cuore aperto e spirito di preghiera. Leggiamo la profezia. Cari figli, ascoltate con attenzione e fede le parole che vi porto dal cielo. Io sono la Santissima Vergine Maria, e oggi vi rivelo una profezia che riguarda il destino del mondo e la manifestazione della misericordia divina. Un terribile terremoto scuoterà i Balcani. Le terre tremaranno e il cielo si oscurerà. Questo sarà un segno evidente, un avvertimento per tutta l'umanità. Non sarà solo un fenomeno naturale, ma un richiamo alla conversione e alla preghiera. Il dolore e la distruzione che seguiranno serviranno a risvegliare i cuori addormentati e a chiamare tutti a ritornare a Dio. Quindici giorni dopo questo orribile terremoto, sarà rivelato il primo segreto di Meggiugorie. Questo segreto, custodito con amore e preghiera, segnerà l'inizio di un tempo nuovo. Sarà un tempo di grandi prove, ma anche di immense grazie. La rivelazione di questo segreto sarà un segno della misericordia divina, un invito alla conversione e alla speranza. Cari bambini, diffondete questo messaggio con coraggio e fede. Pregate intensamente, affidatevi al cuore immacolato della vostra Madre Celeste. Siate forti nella fede e saldi nella speranza. Il mondo ha bisogno delle vostre preghiere e del vostro esempio. Dio non abbandona i Suoi figli, ma chiede a ciascuno di voi di essere luce nelle tenebre. Preparatevi spiritualmente, rafforzate la vostra fede, e restate vicini al cuore di Gesù. Io sono con voi, vi proteggo e vi guido verso la salvezza eterna. In questo tempo di attesa e speranza, siate messaggeri del mio amore e della mia pace. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti.